Musica Nuova settimana, nuovo appuntamento con Dica 33, il medico risponde. Tornato nei nostri studi il dottor Paolo Cascavilla. Buongiorno dottor Cascavilla. Buongiorno. Medico di medicina generale e responsabile dell'area tabacologia della Simefac. Abbiamo parlato nelle scorse due puntate proprio del fumo, il fumo nei giovani, e ha dato delle indicazioni, delle informazioni, ha lanciato dei messaggi molto importanti. Allora, oggi cambiamo argomento e parliamo dei disturbi psicosomatici. Allora, dottor Cascavilla, che cosa si intende per disturbi psicosomatici e quali le cause e le manifestazioni più frequenti? Sì, per disturbi psicosomatici intendiamo quei disturbi che provocano una risposta nel nostro corpo dovuta a un disagio emotivo, un disagio che nasce nella nostra mente. Perché dobbiamo sapere che mente e corpo costituiscono un asse unico, un canale di comunicazione unico. È una sorta di scambio osmotico che si verifica tra le nostre emozioni, le nostre ansie, le nostre preoccupazioni e il nostro corpo. Da dove nascono? Innanzitutto sono prerogativa delle società avanzate, perché noi, il nostro sistema di vita è cambiato. Corriamo sempre come se fossimo inseguiti da qualcuno, mangiamo in fretta come se qualcuno dovesse toglierci il piatto da tavola. E questo cosa crea? Una sfasatura tra due componenti molto importanti del nostro sistema nervoso. Il simpatico e il parasimpatico, che sono entrambi utili per la nostra sopravvivenza. Ma il nostro sistema simpatico oggi è iperattivato da queste ipersollecitazioni. E quindi viviamo in una sorta di costante situazione di allarme, di emergenza continua. E questo scatena queste manifestazioni. Pensiamo che molto spesso, quando un paziente ha delle forti emozioni, molto coinvolgenti, situazioni elevate di stress, livelli ansiogeni alti, è come se un sasso venisse scagliato dalla cima di un monte, cioè la nostra mente, e precipitasse a valle nei nostri organi, che diventano cassa di risonanza di queste emozioni. Ognuno ha il suo organo preferenziale. Magari la testa, il cefalee, la pancia. Molti ragazzi vengono prelevati da scuola ai genitori e ce li portano in studio. Altri, il cuore, palpitazioni, mal di cuore, eccetera. Ma il problema sorge quando nello stesso paziente si verificano più disturbi di questo genere. Allora il medico di medicina generale dice, adesso da dove comincio? Mica posso dare un farmaco per ogni disturbo. Ma bisogna considerare che questi disturbi sono come una accordata di sintomi legati a una stessa fune, l'ansia. Se noi riusciamo a tagliare questa fune o a indebolirla, tutti i sintomi correlati migliorano sensibilmente. Allora andiamo sul pratico, dottor Cascavilla. Parlava appunto di questa fune che è l'ansia, che poi scatena tanti altri disturbi. Come la possiamo allentare? Come la possiamo tagliare? Come gestire l'ansia? Sì, innanzitutto questi pazienti che affollano i nostri studi vanno per così dire frenati. Perché di solito sono pazienti mai sazi di esami, perché sono in una ricerca continua di rassicurazioni. Mi permetto di fare un esempio simpatico senza volere a nessuno. Sono come quelle scimmiette che saltano di albero in albero, di liana in liana alla ricerca di cibo. Ma i sazi, ecco, hanno sempre bisogno di essere rassicurati. In questo caso qui la visita medica ha un ruolo fondamentale, perché il medico può rassicurare il paziente, perché non hanno un substrato organico questi disturbi. E quindi li può rassicurare. E molti pazienti escono dal nostro studio rinfrancati, alleggeriti, perché sanno che non hanno una malattia seria alle spalle. Ecco, vogliamo fare... Lei immagino che in tanti anni di carriera e di professione medica avrà visto transitare e passare dal suo studio di medicina generale centinaia, oserà anche dire migliaia di pazienti in tutto l'arco della sua professione. Ci faccia un esempio pratico, magari un paziente particolarmente sofferente, dove si capisce proprio il legame che esiste, molto stretto tra mente e corpo. Ci faccia un esempio, dottor Cascavilla. Se io dovessi scegliere andrei indietro nel tempo, molto lontano. Quando ero un giovane medico alle prime armi e frequentavo l'ospedale, venne una signora che aveva dei mal di testa lancinanti, non poteva più vivere e aveva provato di tutto. Il medico di reparto mi fece cenno e mi disse vieni con me in sala operatoria e se la portò in sala operatoria. Allora le faceva credere di fare una puntura intracranica inoculando una medicina laddove nascevano le sue cefalee. Bene, alla fine della procedura era scomparsa la cefalea. Si sentiva libera da questo cerchio alla testa che la tormentava da anni e ne faceva una al mese. E così stava bene tutto l'anno. Da allora io ho capito che il cervello è manipolabile, è malleabile. Non solo, ma è stato confermato dalla scienza che nel nostro cervello noi abbiamo una farmacia interna di farmaci. Una farmacia sempre aperta che utilizziamo poco. Ci sono ansiolitici, le endorfine tranquillanti. Ci sono antidolorifici naturali. Pensiamo a quelle sostanze morfinosimili che in quella paziente venivano attivati. In maniera naturale poi. In maniera naturale. Quindi bisogna saper ricorrere a questi farmaci naturali. Molto bello quello che ci sta dicendo, caro dottor Cascavilla. L'ansia si è placata. L'ansia della diretta si è placata. Alla luce di quello che ci ha raccontato, di questo caso davvero emblematico. Quali sono le strategie terapeutiche, farmacologiche e non per liberarci dall'ansia che in qualche modo attanaglia e condiziona la vita di tante persone, anche di tanti pazienti, dei medici di medicina generale. E per evitare che poi questi disturbi diventino cronici, quest'ansia poi dia sfogo ad altro. Ecco, ci dia qualche indicazione, qualche strategia. Sì, innanzitutto distinguiamo un po' le cose. Se ci viene un paziente con un'ansia particolarmente acuta, che può degenerare in panico, allora in quel caso lì sono molto utili gli ansiolitici che bloccano questa montata ansiogena nel paziente, ma sono anche farmaci che non possiamo utilizzare per lungo tempo, perché poi ci possono dare la dipendenza, la tolleranza. In certi casi è anche utile usare degli antidepressivi proprio per tenere a bada sia l'ansia e sia una latente depressione che la fomenta. che fomenta l'ansia. Ma io direi che queste situazioni intermedie vanno trattate anche andando, come dicevamo prima, un po' a ottenere dal nostro sistema nervoso quelle sostanze utili che ci possono servire. Allora, senza essere esaustivi, proponiamo alcune cose. l'attività fisica, ne abbiamo parlato, ha valenza di psicoterapia. Allenando il corpo, alleniamo anche la mente, liberiamo quelle sostanze che migliorano il nostro umore. Le endorfine, lo stavo dicendo prima. Le endorfine, e contrastano ansia e depressione. Un'altra strategia, la respirazione. Il paziente ansioso respira male in modo superficiale e poco profondo, ha un blocco del respiro. La respirazione diaframmatica, semplice da utilizzare e da imparare, regolarizza la nostra respirazione. Un autentico pacemaker della tranquillità, della serenità. Altra cosa, dedicare a se stessi un periodo della giornata fisso in cui non esista altro. Mezz'ora, non bisogna aver paura di togliere tempo. Stai lavorando su te stesso, stai lavorando sul tuo benessere. Perché questo? Per fare le cose che più coinvolgono il paziente. Direi che fanno battere il cuore per quelle attitudini che ogni paziente ha. Perché andiamo a muovere il mondo delle emozioni? Queste forze portentose che noi abbiamo dentro. E le emozioni positive vanno a contrastare tutto quel mondo negativo che ci dà fastidio e che ci condiziona la vita. Mondo negativo che poi probabilmente nel periodo della pandemia e del Covid si è manifestato in tutta la sua potenza. Allora, attività fisica, respirazione, respirazione diaframmatica e dedicare del tempo a se stessi. Magari anche stare in compagnia delle persone che ci fanno stare bene. i familiari e gli amici prima di tutto. Allora, grazie al dottor Cascavilla. Potete rivedere questa puntata non solo in replica nel corso della nostra programmazione ma anche sul nostro canale YouTube. C'è proprio una playlist che si chiama Dica33, il medico risponde. Appuntamento alla prossima settimana con il dottor Cascavilla. Noi andiamo in pubblicità e poi di nuovo insieme. Noi andiamo in pubblicità.